Bella ragazzi, qui non è bentornati, eccoci qui oggi con questo nuovo video, siamo tornati oggi finalmente direi con il FIFA obiettivi Chiedo scusa per l'assenza settimana scorsa ma ero a Los Angeles, poi sono tornato, mi hanno perso la valigia Ho dovuto far cose qua per sistemare tutto, sono in giro con questo mouse ragazzi Cioè, è una macchinina, capite che la situazione è difficile, però ce l'abbiamo fatta perché ho visto già il panico ieri nel video di Trials Dove è il FIFA? Arriva, c'è, ci ho impiegato un po' più di tempo, ma siamo pronti, siamo carichi per continuare Perché come dice dagli obiettivi abbiamo fatto un primo episodio molto bello, ci mancano i gol con il cross in Rabona Però skill goal e gol da fuoriare bene o male siamo un po' lì, abbiamo perso una partita in modo incredibile Quindi teoricamente non possiamo più perderne per fare il power up delle vittorie E per Ronaldo ci stiamo lavorando, quindi partiamo carichi anche oggi Mi raccomando, c'è un bel mi piace, arriviamo a 30.000 like anche in questo episodio Perché dobbiamo supportare almeno questa serie fino alla fine che stanno arrivando dei grupponi veramente epici E niente ragazzi, andiamo dentro con le partite, speriamo bene per oggi, buona visione, bella Prima partita di oggi, Argentona E a me queste squadre fanno più paura che quelle mega forti Io continuerei a fare i gol con Ibra, che sono quelli che mi premono di più in vista del Ronaldone E poi almeno un gol con il cross in Rabona vorrei provarlo a fare E gli altri abbiamo tempo, diciamo che siamo in una buona situazione Guardalo qua, daglie Ibra, daglie cazzo Partiamo Oggi dobbiamo stare attenti a non perdere se vogliamo tenerci buono l'ultimo obiettivo delle vittorie E metteremo una difensiva di sicurezza Non inizia a laggare merda Va Ibra Boom Dopo 1-0 nel lag più totale Capriole lagganti Mamma mia lagga anche il replay, incredibile come si giochi oggi Come cazzo l'ha presa? Oddio che bello E nel lag ci portiamo Sul 1-0 Un gol in più per Ibra Ottimo Aia Aia Mayday 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 Ruffie Ruffie ha fatto il miracolo Con partite così È già difficile che io riesca a vincerle Immagina fare tutto il resto Guarda qua Che roba No che gli è rimasta lì Buttala via che facciamo le soggetti arronnate Vai Bufalino Sì Bufal Resisti Cazzo Con questi stronzi Bravo zio Bravo Bravissimo Bufal No Avevamo fatto tutto bene Ma quanti sono in difesa questi raga Cioè sono veramente tutti chiusi dietro? Gli stiamo rincoglionendo un po' Ma forse stiamo rincoglionendo anche noi Tira la bomba Madonna mia lagga tutto Non si capisce un cazzo Se entra non entra la palla Va che robe Sì però raga mi sta venendo il Parkinson agli occhi A vedere tutte queste cose Che vanno a scatti così Guarda non si capisce un cazzo Però Nel dunque Nel dubbio Vai vai Benny Buona Benny Sì Benny Sì Benny Eh raga Ci sarà la musichina sotto di Gioga Bonito in questo momento Perché per forza Le sto facendo Le sto facendo di tutta questi Guarda te che roba Rabona Ibra 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 Zlatan Dato che era quasi il 45esimo E avendo fatto già due grandissimi obiettivi La contiamo come parita completa Perché sennò giochiamo troppi minuti di partita E diventa troppo squilibriata come cosa Sono cose che devo scegliere mentre gioco Mentre faccio la serie Perché non si può mai sapere Comunque la contiamo come una vittoria Come se l'avessimo giocata fino al novantesimo Molto bene E andiamo con la seconda Quindi seconda di oggi Sembra essere un tipo cattivello Questa c'è un'italiana A chi A chi A chi che sono tutti Bufal Che cazzo fai Occio Arraggia qua Torniamo con la squadra Grazie Jamerson ferma lì Bravo Metti il cross Ibra Devi farmi la rovesciata zio non hai capito Guardala Se segno così regà Chiudiamo il canale porco duro Però le devo cercare le devo provare Se no è difficile che vengano a caso Tagliati fuori tutti quanti Occhio Per fortuna era fuori gioco Zonzi Che tiratore incredibile Per Zlatano si gira bene Gris Ho tenuto premuto il L1 Per sbaglio Sono tagliato il dito con la levetta Ibra È il momento giusto Per buttare la bomba Incredibile Zlatan Ibrahimović Era questo che aspettavo La bomba da fuori area E che bomba signori Che parabola Zlatanasso 1-0 Si vola Stiamo dominando bene Ancora Ibrahimović No questa volta no Siverratti Oddio l'ha provato da fuori area Ce ne manca uno da fuori area Dai Io metto offensiva anche se stiamo vincendo Ovviamente A anti Non dovrebbe essere così Vaffanculo Never say never Per Zlatan Never say never Caputana Verratti Orca merda Niente Non sta entrando E che cazzo Siamo tutti qua Vai sfondar Zlatano Va bene così Era ora ragazzi Meno un gol in più fa sempre bene Ne manca uno Abbiamo il man of the match Di Ronaldo E che cazzo Buca tutto Sta facendo tutto Zlatan oggi Tutto lui Ma come giochiamo veloci Bravi raga Bravi raga Sibra Sibra Oddio Oddio Avevo fatto tutto bene Me l'ha un bloccata lì Di chi è? Dimmi che è nostra Ma è finita Vabbè raga Va bene Va bene comunque Abbiamo fatto 4 gol con Ibra Per il momento 2 in questa parita ancora Un gol da fuori area Bellissimo Almeno provare uno skill goal Nella prossima Per rimanere in corsa È abbastanza Messi benino Dai Ultima di oggi raga Barclays classica Sua si vuole muovere Va che bella coppia di attacco Grace Manibra Ci muoviamo? Ho già capito che non sarà facilissima Avversari belli solidi Belli tosti Occhio in difesa Non dobbiamo prendere Gol Oh mio Dio Lo sapevo Noi giochiamo 2 bene La terza Che dobbiamo andare A concludere bene Dopo 5 minuti Prendiamo gol Va bene Va bene Siamo già sotto Ibra però Ma fammi un miracolo così Ibra Madonna Ci riproviamo Ci riproviamo Ma non va Dai larga bene C'è Ibra al centro Era anche al centro Ibra La Rabona Dai Oh 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 Vabbè come mi ha scattato a culo Ma cosa ha fatto? Madonna mia ragazzi Cosa sta facendo questo? Cosa sta facendo questo? E la madonna Arbitro Ma mi è vibrato anche il buco del culo Talmente mi ha fatto vibrare il Joltik Quell'intervento È gol Palo Oh grazie Allora esiste E torna indietro cosa Madonna mia Sto facendo venire un nervoso come gioca questo Che continua a girare palla dietro in difesa Madonna E sarà il 32esimo passaggio che fanno al portiere Mi sono rotti i coglioni però Passa dal portiere Bravo Mamma mia che schifo di partita Non ci credo che sto giocando contro questa gente Non ho toccato palla Continua a giocarsela in difesa Va che roba E non schippa E non schippa un cazzo Sì Griezmann Sì Griezmann Dio bono Sivra Fa un culo bastardo Con col bruttissimo Mo girala ancora al portiere qualche volta dai Girala ancora al portiere Cazzone Io devo finire sempre col sangue che mi rode no Quando faccio questi episodi Perché poi dio bono il tempo è tiranno Devo fare le cose Dammi sta palla È buona Guarda Pezzo di merda Buttalo fuori Buttalo fuori Era rosso diretto Era gol fatto Sì Non lì Che cazzo hai fatto Madonna zonzi come se ha girato Ha girato È rigore Godo merda Ho sbagliato Ho sbagliato Sì Godo merda 2 a 1 Vaffanculo Mannaggia Mannaggia Vaffanculo Gol Ultima azione forse Me la lasci Me la lasci L'ultima azione Di Ibra che mi mette il pallone No Era gol della distanza No Vaffanculo Cazzo Guardate E niente ragazzi Abbiamo fatto soltanto due gol con Ibra Potevano chiudere quello con il gol da fuoriare Con il pallonetto lì al 90 millesimo Una parita soffertissima raga Veramente non potete capire Ma andiamo a fare il recap e vediamo cosa abbiamo combinato Allora ragazzi Siamo arrivati alla fine di questo secondo episodio del gruppone È andato abbastanza bene devo dire Perché come andiamo dalla grafica Siamo vicinissimi a Ronaldo Tots O Toti in base a quello che prenderò Abbiamo fatto il gol con l'Arabona Ci è mancato lo skill goal oggi Perché l'ho provato Ma non ce l'abbiamo fatta Non ce l'abbiamo fatta Le prime due partite sono andate veramente bene La terza c'è un po' sfanculato Il programmino Per arrivare giusti giusti E far cose Quindi siamo un po' in difficoltà in questo momento Sarà un ultimo episodio Il prossimo veramente lì Saremo veramente lì E dovrò cercare di fare il possibile Per portarci a casa più cose che possiamo In vista del gruppone di Ronaldo Io vi ringrazio per aver visto il video Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel mi piace Raggiungiamo i 30.000 mi piace Per concludere poi al meglio Con il prossimo episodio Che arriverà settimana prossima Nel frattempo I giorni arriveranno tanti bei video speciali E continueremo la serie di trials Per oggi è tutto Grazie a tutti quanti Alla prossima Qui da Ron Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti